Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rite. Partiamo con la cronaca. Picchia la compagna ferendola con un coltello. Arrestato a Ravello dai carabinieri un 35enne albanese. I carabinieri della compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Alessandro Bonsignore, hanno tratto in arresto a Ravello nella serata di domenica 17 marzo un uomo di nazionalità albanese per aver brutalmente aggredito la sua compagna, madre del loro quattro figli. Nello specifico l'uomo, un 35enne albanese, in seguito ad una lite, avrebbe aggredito la compagna di 37 anni, tentando prima di strangolarla e poi ferendola in diverse parti del corpo con un coltello da cucina. Le urla disumane dell'uomo, avvertite dai vicini, hanno fatto scattare l'intervento di un'ambulanza del 118, proveniente dal presidio ospedaliero di Castiglione, e anche i carabinieri della compagnia di Amalfi. La vittima, ferita e sanguinante, è stata trasportata ad urgenza al pronto soccorso di Castiglione. Sottoposta agli esami strumentali, la donna ha riportato una ferita d'arma da taglia al palmo della mano sinistra, per cui si sono resti necessari diversi punti di sutura e alcuni politraumi ed echimosi su diverse parti del corpo. L'uomo pluripregiudicato è stato arrestato dai militari per i reati dei maltrattamenti contro convivente e lesioni personali, ed è stato condotto su disposizione del PM di turno presso la casa circondareale Antonio Caputo di Salerno. Le frazioni di Alessia e Marini di Cava dei Tirreni non sono ancora servite della rete fognaria. Questa situazione da anni causa numerosi disagi ai residenti ed è proprio dei giorni scorsi la notizia del malore di una donna causato dalle esalazioni fognarie. Vediamo il servizio. La problematica relativa alla rete fognaria che interessa le frazioni di Alessia e Marini di Cava dei Tirreni continua ad essere fonte di disagi per i residenti. Alcuni giorni fa, proprio a causa delle esalazioni fognarie, una donna è stata colpita da un malore che ha richiesto le cure dei sanitari del pronto soccorso. In merito a questa situazione abbiamo raccolto le dichiarazioni dell'avvocato Antonio Russo, legale di alcuni residenti. La situazione per le frazioni di Marina e Alessia, perché sono entrambe le frazioni interessate, sono caratterizzate da un'assenza del sistema fognario, quindi praticamente le abitazioni o quanto attività, anche bed and break, farsi che ci sono in loco, e altre situazioni di natura diverse da quella abitativa, non hanno appunto un sistema fognario pubblico, quindi dovrebbero per lecce essere dotate di un sistema di vasche, di decantazione per quanto riguarda i refugli fognari. Direttamente in assenza cosa accade? Accade che spesso e volentieri c'è un sbessamento continuo e reiterato di acque nere nel sistema di raccolta delle acque meteoriche. Questo ovviamente comporta delle situazioni sotto l'aspetto sanitario veramente incresciose, perché male odori, miasmi che si vengono a creare in quella zona non sono una novità, tanto è vero che anche il Comune di Cava si è attivato con varie missive lettere raccomandate nei confronti di tutti i soggetti che hanno proprietà immobiliari nella zona per avere indicazione o meglio comunicazione di chi è in regola e chi non è in regola. Però lettere che non hanno portato alcun risultato. Nel luglio del 2023 c'è stato anche un intervento del Nucleo Ambientale dei Carabinieri su sollecitazione della Procura di Noncella Inferiore perché questa vicenda è stata comunque denunciata più di prese agli organi di competenza Provincia, Ausino e Comune di Cava. Nonostante si continua ancora con questo sbessamento che ovviamente questo sbessamento oltre a creare un disagio nella zona interessata la domanda che va posta dove vanno a finire questi reflui perché tecnicamente andrebbero a finire a valle e poi poi inquinare sia falde fino ad arrivare al mare di vede sul mare, parliamoci chiaro. Secondo il mio parere si tratta di una questione anche di rilevanza penale ma non solo nei confronti di chi spessa magari decisamente ma anche nei confronti di chi non interviene a porre uno stop, un fine a questa situazione. Come si può avere un'abitabilità di una casa senza le vasche? Come si può avere un permesso di natura commerciale nell'esercizio di un'attività di bed and breakfast oppure di un'attività diversa da bed and breakfast come una RSA se non si hanno le vasche? Questa è la domanda che io mi pongo oltre al fatto del danno ambientale che si arreda non solo alla frazione ma anche poi a valle. Ovviamente non è una situazione nuova voglio dire, proprio con molta sincerità non è una situazione nuova è una situazione già ben nota a tutti i soggetti che devono comunque intervenire in attesa appunto che si intervenga in maniera seria in maniera definitiva perché comunque si tratta di una fattispecie che conclama un reato di natura ambientale io rappresento appunto i nuclei familiari che sono purtroppo destinatari diciamo, destinatari ma anche soggetti che subiscono questa situazione nonostante abbiano una piena regolarità nel loro spessamento di quanto riguarda i refri cioè dotati di vasche, di decantazione e quant'altro capisco anche la difficoltà di intervenire perché sono più soggetti da coordinare sotto il profilo di natura pubblicistica però non può essere più tollerata è una situazione che si conclama o mai si è acclarata da un paio di anni, due, tre anni almeno per quanto io sono intervenuto probabilmente anche di più ovviamente io farò il mio corso come avvocato dei miei clienti e poi le autorità faranno anche il loro corso nell'indagine e nelle verifiche è stato il fatto che a luglio c'è stata una verifica del nucleo ambientale dei Carabinieri Tragedia sui binari della stazione di Montecorvino Bellizzi ritrovato morto in seguito all'investimento di un treno un 26enne di nazionalità indiana indagini in corso della polizia ferroviaria Tragedia nella serata di domenica scorsa alla stazione di Montecorvino Bellizzi dove un uomo di nazionalità indiana è morto investito da un treno sui binari della stazione nello specifico l'uomo un 26enne di nazionalità indiana residente a Ponte Cagnano Faiano è tragicamente morto sul colpo intorno alle 21 di domenica sera in seguito ad un violento impatto con un treno in corsa a chiamare i soccorsi in seguito al rinvenimento di un corpo sui binari sono stati i macchinisti del treno partito dalla stazione calabrese di Paola e diretto a Salerno sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi del 118 una squadra della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Salerno per il recupero della Salma e la polizia ferroviaria sospresa in seguito al ritrovamento del cadavere dal personale di Trenitalia la circolazione sulla linea ferroviaria interessata per accertamenti dell'autorità giudiziaria culminati con la rimozione del cadavere dai binari sul posto si sono precipitate anche gli agenti della polizia ferroviaria e della sezione polizia scientifica della questura di Salerno impegnati nei rilievi e nelle operazioni utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto le ipotesi sono tutte ancora al vaglio degli inquirenti anche se quella più plausibile al momento è di un fatale incidente non si esclude infatti che l'uomo di nazionalità indiana stesse percorrendo per tornare a casa una scorciatoia costeggiando i binari e che possa essere stato investito da un precedente treno in transito ad alta velocità che non si sarebbe accorto della presenza dell'uomo mentre l'allarme sarebbe stato dato da un successivo convoglio che invece procedeva a bassa velocità prima di fermarsi in stazione Nella serata di sabato 16 marzo personale della divisione amministrativa e sociale unitamente a personale della polizia municipale di Salerno nell'ambito di attività specifica di controllo a pubblici esercizi detti della somministrazione di alimenti e bevande ha controllato vari esercizi pubblici nel territorio cittadino nella circostanza al titolare di un pubblico esercizio è stata contestata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18 e la diffusione sonora in assenza di regolare perizia fonometrica Ad altri due esercizi pubblici è stata contestata poi la diffusione sonora oltre l'orario consentito dall'ordinanza sindacale Un incontro si è tenuto ieri in prefettura a Salerno con le sigle sindacali che rappresentano il personale e gli servizi di trasporto locali in merito ai frequenti episodi di violenza che mettono a repentaglio la sicurezza a bordo Mettere fini agli episodi di violenza che minano la sicurezza del personale viaggiante è un incontro per individuare soluzioni a contrasto di un fenomeno inaccettabile sempre più grave e frequente è l'obiettivo pienamente condiviso dal prefetto di Salerno Francesco Esposito che ieri ha ricevuto a Palazzo di Governo i sindacati Filt CGL e Filt CISL con lo scopo di discutere delle aggressioni rivolte contro il personale delle aziende di trasporto pubblico locale si è avviata una discussione molto aperta concentrando l'attenzione sui temi focali della sicurezza con l'impegno di proseguire con tavoli di confronto successivi l'incontro di ieri pomeriggio presso la sede della prefettura era stato richiesto dai rispettivi segretari delle organizzazioni sindacali Gerardo Arpino ed Ezio Monetta dopo l'aggressione ai danni di un controllore a minori da parte di tre giovani a bordo di un pullman di Busta Italia che si erano rifiutati di pagare il biglietto un ennesimo episodio che ha riacceso nuovamente riflettori su una problematica di ampia portata che potrebbe diventare più serio con l'avvicinarsi della stagione turistica quando con l'aumento dei flussi turistici crescono i numeri dei viaggiatori a bordo dei pullman l'incontro ha molto soddisfatto i sindacati Filt CGL e Fit CISL soprattutto per la piena disponibilità del perfetto Francesco Esposito che ha assicurato un suo impegno per garantire la sicurezza dei lavoratori a bordo dei mezzi pubblici con strumenti e misure utili per difendere gli autisti debuts dalle aggressioni lavoratori talvolta presi di mira per futili motivi Dopo l'ennesima aggressione perpetrata nei giorni scorsi ad un verificatore di Sida Sud in costiera Amalfitana da subito come organizzazioni sindacali abbiamo scritto alla Prepertura per aver un incontro nel pomeriggio di ieri siamo stati convocati e si è avviata una discussione molto aperta nella quale si sono toccati tutti i temi focali legati alla sicurezza siamo rimasti piacevolmente sorpresi per la grande patronanza della materia e per la disponibilità che Suo Eccellenza ha posto sulla tematica un primo incontro che ci lascia favorevolmente soddisfatti e che ci vedrà partecipi di tavoli di confronto successivi dove finalmente abbiamo riposto la parola sicurezza al centro delle discussioni per il bene e la salvaguardia non solo dei lavoratori ma anche dell'utenza latitante da 32 anni arrestato il 7 marzo in Portogallo ed estradato nel territorio italiano lunedì scorso è giunto nel pomeriggio di ieri lunedì 18 marzo all'aeroporto di Fiumicino in seguito a procedura di estradizione dal Portogallo l'uomo di nazionalità colombiana ricercato da 32 anni il ricercato colombiano Omar Rivera Gomez di 69 anni dovrà scontare 15 anni di reclusione per traffico internazionale di droga l'uomo era stato arrestato il 7 marzo scorso all'aeroporto della città di Porto non appena arrivato dal Canada dalle autorità portoghesi nell'ambito dell'attività investigativa della squadra mobile di Napoli ed il reparto operativo nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli in stretta collaborazione con più uffici internazionali della DEA l'uomo latitante da 32 anni e condannato con sentenza definitiva a 15 anni si era resi irreperibile dal 1992 quando si era sottratto all'esecuzione di un'ordinanza di custodia quotelare in carcere emessa in seguito alle indagini svolte dalla polizia sul traffico internazionale di sostanze stupefacenti provenienti dalla Colombia e dalla Spagna in Italia nei giorni scorsi il latitante era stato intercettato in Canada ed era stato arrestato in Portogallo grazie al supporto del servizio per la cooperazione internazionale di polizia del ministero dell'interno Il ministro Fitto come ha annunciato qualche settimana fa ha presentato il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Campania che lo obbligava entro 45 giorni alla concessione dei fondi sviluppo e coesione alla regione amministrata da De Luca Il ministro Raffaele Fitto aveva annunciato il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Campania e così è stato Nella mattinata di ieri lunedì 18 marzo è stato infatti depositato l'atto che prefigura un nuovo scontro dialettico tra il ministro e il governatore Vincenzo De Luca e con ogni probabilità non esclude la possibilità di nuove forme di protesta La questione in ballo è oramai arcinota La regione Campania denuncia un eccessivo ritardo nella concessione dei fondi di sviluppo e coesione sulla base di un'istruttoria che dipende proprio dal dicastero di Fitto Oramai più di un mese fa il 16 febbraio si tenne la manifestazione di piazza a Roma alla quale parteciparono numerosi sindaci della Campania e di altre regioni del sud Italia manifestazione che ha fatto clamore per le tensioni nate tra il presidente De Luca e le forze di polizia che hanno fermato il corteo dei manifestanti il fine di quella protesta era di fatto quello di richiedere con forza l'immediato sblocco dei fondi di sviluppo e coesione e tale fu anche la richiesta avanzata al tar della Campania il tribunale amministrativo regionale ha accolto qualche giorno dopo l'istanza della regione giudicando impossibile l'immediatezza della concessione da parte del ministero ma definendo comunque in 45 giorni il tempo massimo affinché si definisse l'istruttoria e quindi la disponibilità dei fondi stessi se tale termine oramai quasi imminente non verrà rispettato il tar Campania ha previsto la nomina di un commissario proprio il termine perentorio entro i 45 giorni costituisce uno dei quattro punti che sostanziano il ricorso del ministero al consiglio di stato il dicastero diretto da fitto ritiene doveroso un approfondimento sui vari progetti proposti dalla regione per una valutazione di merito sugli stessi e per formulare eventualmente delle controproposte questa valutazione necessita però di tempi più lunghi che non possono esaurirsi entro il termine fissato dal tar in merito poi al tribunale che ha emesso la sentenza si ritiene che quello campano non sia l'organo competente mentre ad esprimersi doveva essere semmai il tar del Lazio se questa osservazione dovesse trovare l'assenso dei membri del consiglio di stato già di fatto basterebbe a far considerare nullo il pronunciamento emesso in favore della regione campania in più secondo quanto enunciato nel ricorso depositato ieri l'attività istruttoria per la definizione dei fondi di coesione sviluppo destinati alla campania sarebbe ben più articolata e complessa rispetto a quanto già fatto ad esempio per le regioni del nord Italia in quanto i fondi per il mezzogiorno corrispondono a circa l'80% della dotazione complessiva quindi va da sé che l'istruttoria non può comportare il medesimo impegno di tempo rispetto ad altri casi già completati infine si ritiene pretestuosa la richiesta di De Luca in quanto il ministero reclama che fosse già in corso il processo istruttorio e quindi la definizione dei fondi sulla base di un'interlocuzione in atto tra gli uffici del dipartimento ministeriale e gli uffici della regione nei prossimi giorni sono quindi da attendersi nuovi sviluppi già nei giorni scorsi il governatore De Luca aveva lasciato intendere che qualora venisse a decadere la sentenza del Tar Campania si rendeva indispensabile una nuova forma di protesta i miliardi di euro che dovrebbe ottenere la regione Campania per opere come quella di oggi di riqualificazione urbana di riqualificazione delle strade a settore del territorio per la cultura stiamo combattendo ovviamente contrastando una posizione francamente irresponsabile da parte del governo nazionale stiamo parlando dei fondi per la coesione quindi che dovrebbero servire per rilanciare il sud stiamo combattendo per questo per avere rapidamente i fondi sviluppo e coesione perché servono a realizzare queste opere e purtroppo abbiamo perduto già un anno e mezzo di tempo in chiacchiere e passaggi burocratici assolutamente inutili comunque stiamo combattendo prima o poi risolviamo il tutto una feccolata per la pace in programma a Salerno il prossimo 24 marzo vediamo è in programma domenica prossima 24 marzo a Salerno la fiaccolata per la pace in ricordo di tutte le vittime di guerra organizzata dalla parrocchia San Demetrio Martire in collaborazione con Migranti Senza Frontiere la cooperativa sociale Galad Avantgarde Sport e Aix presso il dopolavoro ferroviario di Via Dalmazia l'iniziativa intende commemorare tutte le vittime di guerra senza distinzione alcuna pregando per la pace ricordiamo nel silenzio tutte le migliaia di vittime causate dai terribili conflitti in Ucraina e in Terra Santa pregando il Signore affinché come ha detto Papa Francesco il grido di dolore delle popolazioni civili possa toccare i cuori dei responsabili delle nazioni e suscitare progetti di pace con la guerra nessuno vince ma tutti sono sconfitti ha osservato l'Arcivescovo di Salerno Campagna a Cerno Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi che presiderà la fiaccolata di domenica il raduno è fissato alle ore 18 del 24 marzo tra preghiere e riflessioni dunque la simbolica fiaccolata raggiungerà la chiesa di San Demetrio Martire dove alle ore 19 il parroco Don Rosario Petrone celebrerà la Santa Messa per la pace in ricordo di tutte le vittime di guerra ci fermiamo adesso per una breve pausa a Cava dei Tirreni c'è un luogo dove l'esperienza incontra l'innovazione dove il gusto diventa arte e la tradizione si mescola con la modernità Vieni a trovarci in via Luigi Ferrara 79 Lamberti Market e Bistro dove la passione per il food è di casa Mailboxes porta la Pasqua fino a casa tua a partire da 16,90 euro per i pacchi fino a 20 kg e 19,90 euro per le spedizioni in Calabria Sicilia e Sardegna promo valida dall'11 al 29 marzo Vieni a trovarci in via Vittorio Veneto 1921 a Cava dei Tirreni e in via 20 settembre 148-150 a San Giuseppe Vesuviano Previsioni per oggi Nel pomeriggio sulle coste parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti in montagna nubi e schierite con possibili piovaschi in serata sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna schierite alternate a nubi sparse Previsioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli quasi sereni Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni Riprendiamo con lo sport calcio La Cavese domenica prossima giocherà a Civita Castellana contro la Flaminia con l'obiettivo del riscatto già in prevendita i biglietti per i tifusi ospiti La Cavese ha perso in casa contro la Nuova Florida di Ardea dopo sette partite che non subiva sconfitte un K.O. derivato da una serie di concause una di queste può essere stata l'aver sottovalutato l'altra squadra i bianco-blu forse non si aspettavano giocatori avversari così spavaldi anche in campo esterno c'è stato anche il fatto di aver sentito molto la gara come dimostra l'entusiasmo con il quale la tifoseria metelliana aveva accolto il ritorno dei giocatori aquilotti dalla trasferta precedente di Nocera Inferiore dove la Cavese aveva pareggiato quindi c'erano tante tante aspettative intorno agli stessi giocatori bianco-blu e anche gli infortuni patiti in corso d'opera prima quello di Zenelai e poi quello di Magri possono aver scompaginato i piani di mister di Napoli è una Cavese che comunque rimane la capolista è tuttora in pole per raggiungere la serie superiore ma dalle prossime gare l'atteggiamento dovrà essere diverso da quello messo in campo l'altro ieri bisogna avere tutto per raggiungere l'obiettivo al bando i cali di tensione bisogna mantenere la concentrazione elevata ora la speranza dell'allenatore Aquilotto è che l'imprevista sconfitta subita dalla sua squadra con l'Ardea possa rivelarsi salutare lo riascoltiamo a fine gara tutte le sconfitte fanno male fanno male una sconfitta che se se doveva venire per come è venuta sono contento che è venuta oggi perché ci fa ritornare subito con quella determinazione e resettare tutto quello che magari potevamo pensare stando 11 punti avanti che era un campionato in discesa questo è un campionato difficile un campionato ne vince una un campionato dove in questo momento qua c'è bisogno più di testa che di gambe noi secondo me questa sconfitta qua ai ragazzi a fine partita l'ho visto l'ho visto abbastanza giù di morale ma nello stesso tempo di risettare di ripartire come abbiamo fatto fino adesso diciamo che oggi abbiamo commesso tutti tutto lo staff tecnico tutta la squadra degli errori magari di leggerezza e questo non ce lo possiamo permettere non transicco su queste cose abbiamo fatto degli errori ognuno di noi deve guardarsi dentro deve cercare di ripartire bene e di essere subito sul pezzo per la partita di domenica nella prossima giornata che si giocherà nella domenica delle palme la cavese sarà impegnata a Civita Castellana per affrontare la Flaminia un avversario duro che in casa spesso ha dato il meglio nelle proprie prestazioni e che cercherà di rifarsi dopo il mezzo passo falso subito nell'ultima partita che i laziali hanno solo pareggiato sul campo della Boreale ultima in classifica di Napoli che è in attesa di notizie sui tempi di recupero di Magri e di Zenelai potrebbe riavere a disposizione a Civita Castellana Buschiazzo e Tropea due difensori che non sono stati della partita con l'Ardea per motivi fisici intanto proprio ieri le due società prima la Flaminia e poi la Cavese hanno dato notizia dell'apertura della prevendita dei biglietti per i tifosi ospiti a cui disposizione ci sono 800 tagliandi che costano 12 euro l'uno come stabilito dalle autorità competenti i tagliandi per i cavesi possono essere acquistati solo a cava presso il punto vendita consueto e la stessa società Aquilotta ha riportato quello che è l'itinerario consigliato ai sostenitori metelliani per raggiungere lo stadio Turiddu-Madami di Civita Castellana dove la Cavese non ha precedenti nella sua storia Parliamo adesso della Nocerina soci in riunione dopo le dichiarazioni dell'ex DS Righi si attende la risposta della società la squadra intanto anticipa sabato il derby contro il San Marzano Acque agitate in seno alla dirigenza rossonera dopo le dichiarazioni dell'ex DS Emanuele Righi l'operatore di mercato nei giorni scorsi con un comunicato individuale aveva confermato l'interruzione del rapporto con la Nocerina Ritornato sull'argomento in seguito ad una intervista rilasciata all'interno di una trasmissione web Righi ha motivato la scelta parlando di compensi non ricevuti e di una divisione interna alla società fra i soci che avevano caldeggiato il suo ingaggio e chi invece lo aveva accettato pur senza proporlo parole forti forse anche poco opportune che però chiamano la dirigenza rossonera ad una presa di posizione soprattutto in merito alla presunta spaccatura evidenziata da Righi proprio nel pomeriggio si vedranno i sei soci della Nocerina chiamati ad ufficializzare la loro posizione intanto la squadra dopo tre pareggi consecutivi continua la preparazione in vista del derby contro il San Marzano il match sarà anticipato a sabato 23 marzo questa era la nostra ultima notizia grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito